La matta trippu, due animatori per tre ore di festa, baby dance, balli di gruppo, giochi di movimento, personaggio dei cartoni animati al momento della torta, gare di abilità micromagia, teatrino, jumping o trottola gigante, paracadute multicolor, maghi, trombonieri, gioconieri, sputa a fuoco, spara coriandoli, bengalini per la torta e il regalo per il festeggiato e tutti gli invitati. Comunicazione a tutti i passeggeri dello Space Shuttle, qui è il capitano che mi parla e siamo diretti verso la luna, allacciato alle cinture e buon divertimento! Grazie a tutti! Da quando siamo qui, guarda, io veramente non ce la faccio più. da quando siamo nella terra dei Maya, non ha fame proprio che... Bonsai, qua purtroppo si mangia un po' di meno perché dobbiamo essere bravi a cacciare, però lo sai come fanno loro? Vanno dove sta la prete e fanno così, uuuuuh, e poi prendono l'animale e lo mangiano. È un popolo intelligentissimo, veramente intelligente. Invece noi solo le merendine ci mangiamo, bonsai. Come facciamo a fare uuuuh, capisce che non siamo dei Maya veri, originali, e non vengono, hai capito, gli animali... Bonsai, ma non è che se noi facciamo uuuuh, arrivano gli animali a mangiare da noi? Vogliamo provare? Proviamo! Uno, due, tre! Uuuuh! Non è arrivato, non è arrivato. Mannaggia, mannaggia, abbiamo sbagliato ad atterrare qui. No, secondo me dobbiamo fare una cosa. Andiamo dal grande capo, che è quello più bravo. È bravo, bravo. Andiamo là e vediamo come si mangia, come fanno loro. Ci uniamo a loro, diciamo possiamo mangiare con voi? Sì, sì. E loro ci fanno mangiare. Io sto dimarrendo tantissimo. Eh, anche io. Vabbè, allora andiamo? Sì, andiamo. Ciao bambini, ci vediamo dopo. Sì. Siamo là gli indiani, siamo là. Andiamo. Andiamo. Abbiamo scoperto un'altra cosa, non siamo andati su un altro pianeta. Io li sto studiando bene questi e poi ho visto la costa del mare, sia di qua che di là. Siamo in America Latina, sì sì, in America del Sud. Quindi non siamo su un altro pianeta, ma siamo sul nostro pianeta. Sì, ho capito, siamo tornati indietro nel tempo, ma non ci siamo spostati nel mondo, nell'universo. A proposito, devo dirgli questo a Pollastro e gli devo far vedere delle cose che ho trovato. C'è praticamente, ah Pollastro, finalmente, senti ti devo dire due cose. La prima è che non siamo andati su un altro pianeta. Ah no? Siamo rimasti sulla Terra, siamo solamente andati duemila anni indietro nel tempo. Duemila anni indietro nel tempo? Sì, sì, ma non ti preoccupare, risolviamo. Come ci ritorniamo di nuovo a casa adesso? Ci mettiamo in una casetta, in una cassetta chiusa, no tutti quanti? La mettiamo sotto terra, aspettiamo che passano duemila anni con l'orologio, sperando che non si scarica la batteria. Quando sono passati questi duemila anni, apriamo la cassetta, tete, e siamo di nuovo nel nostro tempo. Tete, però la navice là è scarica. Tete, si sa che dobbiamo farla caricare ancora per un sacco di tempo, perché c'è molta energia, 1500 anni. Guarda, ho trovato uno specchio, così possiamo mettere come ci siamo conciati. Sì, ma... Ma tu, chi è quello? Quello sei tu. Ma sei bruttissimo, chi mi ha combinato? E io sono bellissimo, invece. Questo specchio non mi piace, fa te bello e me è più brutto. Non mi piace proprio, no? Lo poso. Senti Felice, io intanto ti volevo dire che ho trovato un frutto nuovo, un frutto che mi hanno portato gli indigeni. È tutto rosso, con i puntini viola, e si può mangiare buonissimo. Sì, sicuro che si può, tu mica l'hai già mangiato. Non l'ho appena mangiato. No, Pollastro, cerca di... non lo so come devo dirti, ma non lo potevi mangiare. Non l'ho appena mangiato ed era proprio buono. E dai, non puoi, quelli rossi con i puntini sono quelli velenosi, te l'ho detto già l'altra volta. Ah, e allora ne ho mangiato poco poco, adesso faccio una cosa, vado un attimo di là. Sì, lo so già, ti addormenti e non ti svegli fino a domani mattino, lo sa già. Vado di là. Io nel frattempo non ti seguo, devo studiare ancora sta cosa del tempo, che è importante. 2000 anni indietro, veniteci a prendere. Cari bambini, oggi come lavoretto, visto che siamo tra i Maya, faremo il face painting, ovvero disegneremo i trucchi Maya come ce li ho io. E con me c'è lei, la principessa Maya, che si chiama Nunzia Maya. Nunzia Maya, Nunzia Maya saluta, perché adesso ti farò tutti i trucchi come mi ha insegnato il tuo grande capo. E per fare i disegni c'è bisogno di un bicchiere d'acqua e dei colori ad acqua. Noi utilizzeremo il rosso e il giallo. Cominciamo subito. Bene. Nunzia Maya avrà prima dei tratti rossi. Bagniamo il dito nell'acqua, bagniamo il colore rosso e iniziamo a tracciare le prime linee. Ecco, la prima qui. La seconda dall'altro lato. Perfette linee molto diritte. Adesso anche sul naso. Ecco qui. Inizia già a sembrare una vera guerriera Maya. E adesso prendiamo il colore giallo e la stessa cosa bagniamo il dito nell'acqua. Adesso il colore giallo. La nostra Nunzia Maya prende forma. Ecco, un po' di giallo lo mettiamo qui giù. E un po' di giallo lo mettiamo qui giù. E un po' di giallo lo mettiamo qui. E anche un po' qui. Abbiamo ancora il mento libero e gli facciamo anche un tratto qui. Bene. Come potete vedere, ora lei sembra un vero indiano. Come i suoi amici e i suoi fratelli. Potete anche voi da casa diventare degli indiani. Bastano due colori, tre colori e fare il vostro face painting. A questo punto potete anche travestirvi per carnevale da indiani. Ciao bimbi! Ciao bambini, sono sempre Martina e questo è il pianeta Maya. Il passo di oggi si chiama il passo AUG che noi usiamo per salutare il grande capo. Il passo di oggi è questo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Facciamolo tutti quanti insieme. Bravi! Siete stati bravissimi anche questa volta. Se volete fare il passo insieme a noi, venite sempre sul pianeta Maya e lo facciamo tutti quanti insieme. Ciao bambini! Ciao bambini! Siamo arrivati nel mondo dei Maya. Sì sì, pensate non ne ho visto neanche uno perché siamo arrivati da poco. Siamo arrivati io e i Muppets. Certo, sì i soliti Muppets, quelli con la barba, i nostri amici, i soldino. Eh sì, siamo arrivati qui. Adesso lo sapete che facciamo? Andiamo alla ricerca del popolo dei Maya. Sì sì, che sono un popolo fantastico. Bene, allora vado a prendere i miei amici Muppets e andiamo a farci un giro. Ciao bambini, ci vediamo dopo. Ciao Carlo Soldino! Ehi ciao, ciao a tutti. È tutto bene? È tutto bene. Stavo facendo un giro per il bosco dove stanno i Maya e mi è venuto un po' fame Carlo. Eh beh, ti è venuto fame e allora l'unica cosa da fare è andare a pesca. Andare a pesca? E ma io non ho gli attrezzi per andare a pesca Carlo. Ma non ci vuole niente, prendiamo un ramo dell'albero e facciamo la canna. E poi prendiamo, come si chiama il filo? Il filo, il filo. Un filo, sì, una corda di qualcosa e la buttiamo nell'acqua. E poi ce ne andiamo a pescare e se poi non troviamo i pesci? Eh, moriremo di fame. Ma invece se andiamo dai Maya che sono già bravi pescatori e ci facciamo dare qualcosa da loro? Beh, questa è una bellissima idea. E quasi quasi, io non ne ho visto ancora di Maya, però se vuoi possiamo andare a cercare i Maya. Carlo, se non sbaglio stanno dei Maya proprio dietro la piramide, quella che sta laggiù. Che bello! E allora andiamo! E allora Carlo, io andiamo insieme, vado io avanti e tu mi segui, ok? Va benissimo. Ciao! Ciao! Vi è piaciuto? Eh? Eh sì, ci siamo divertiti. E certo che è un bel popolo, eh? Questo dei Maya. Eh, lo so, lo dobbiamo scoprire meglio, dobbiamo capire meglio che cosa ci vogliono dire. Non si capisce, non si capisce tanto. Dobbiamo studiare ancora il calendario, dobbiamo fare tante di quelle cose che veramente... Anzi, lo sapete che vi dico, vado un po' a studiare che è meglio. Io insieme ai Muppets. Ciao, bambini! Andiamo a studiare. Aug, grande capo spanò! Aug, naso giallo, tu sempre svegliare me quando io dormire. Oggi grande giorno, domani abbiamo il test. Ti sei preparato? Certo, io avrei studiato tutta la materia, avrei studiato italiano. Italiano? No, 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 no! Domani compito di matematica! Matematica? Matematica? Io avrei studiato anche matematica. Vabbè, ti faccio un esamino. Quanto fa tre per tre? Trenta tre. Trenta tre, ma tu sei eretta d'uccello, cosa dici? Ti faccio una domanda più semplice. Quanto fa due per due? Due per due? Sì. Un momento, io pensare, perché è molto difficile come domanda, un momento. No, grande capo spanò, forza, veloce! Fare quattro. Bravissimo! Allora ti faccio un'altra domanda. Quanto fa nove per nove? Questa è essere molto difficile. Nove per nove, nove per nove, no, è un momento che io pensare, io pensare, io pensare. Forza capo spanò, impegnati, impegnati. Momento nove per nove, fare ottantuno. Bravo, grande capo spanò! Allora ti faccio l'ultima, l'ultima, l'ultima. Quanto fa cinque per cinque? Cinque per cinque, pare un momento che io studiare, è difficile. Ma tu avere un oggetto strano, che cos'è? Questo essere iPhone, io andare su Facebook, loro questo avere regalato gente vestita tutta di bianco che venire da stella, dalla carrozza grande con i cavalli. No, tu grande imbroglione, non va bene usare questo marchigegno. Tu grande recchio d'uccello. E tu grande naso giallo. Naso giallo, naso giallo, naso giallo. Naso giallo, grande capo spanò, avere sorpresa per te. Naso giallo, naso giallo, naso giallo, naso giallo. Naso giallo, naso giallo, naso giallo, naso giallo. ah che bella mangià che non ti senti bene perché ho mangiato troppo bonsai hai visto erano buoni quei che cos'erano? ti sei mangiato i vermi bonsai? eh sì ma i vermi non si mangiano ma che ne so quelli erano cotti li hanno fatti sulla braccia però almeno erano buoni e poi si erano ottimi ah meno male e ho mangiati tantissimi mamma mia che buoni che erano allora si potevano mangiare eh non lo so io non li ho mangiati ho preferito mangiare le banane cotte le banane cotte erano buone si e poi hanno fatto il pesce a rosto poi hanno fatto la carne alla braccia e poi hanno fatto tutte queste cose buone hai mangiato proprio i vermi? sapevi che sembravano gli spaglietti e vabbè dai la prossima volta prosa che quelli non sono spaghetti ma sono vermi mi mancano gli spaghetti infatti spaghetti venite non vengono cari bambini voi che siete a casa mandateci qualcosa da mangiare si magari e collegatevi a internet la pagina il pollaio in pausa su facebook e inviateci qualche cosa da mangiare da mangiare no vermi però no vi salutiamo ciao bambini comunicazione a tutti i passeggeri dello space shuttle qui è il capitano che vi parla e siamo diretti verso la luna allacciata le cinture e buon divertimento ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.